L'anacca dentro questa pietra, dentro delle pietra, dentro la pietra, dentro le pietra, Alla prossima. Grazie a tutti. Le spalle con il manubrio. Tu giri il manubrio ma le spalle ce le hai così, non giri. Gira, gira le spalle. Lele, se mi dai 100 euro, se mi dai 100 euro non la faccio lo stesso. Rodol, indietro il culo, stai più indietro e le spalle, se mi dai 100 euro non la faccio lo stesso. Questa ma neanche, cioè è bellissima. Dai più indietro e qua lasciala correre via. Grazie. 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 Grazie.